Siamo vicini ai giovani e quindi gli atleti sono tutti molto giovani. Siamo vicini ai social che oggi la fanno da padrone e quindi il mezzo telematico è quello e poi ci sono dei player del mercato molto importanti che ci hanno sicuramente convinto nel senso ad oggi la risposta a una crisi è la joint venture fatta con la collaborazione tra marchi che hanno nel campo dell'equitazione una certa voce in capitolo. Il modo migliore per capire le esigenze e le tendenze del settore equestre è continuare a vivere lo sport ogni giorno. Campus Masterclass è una full immersion in cui anche i nostri partner vivono l'occasione per confrontarsi con giovani atleti pronti a mettersi in gioco. Io sono Raffaele Cardillo, sono uno dei responsabili dell'Equitatus più che presentare me, presenterei il nostro brand. Equitatus è uno dei brand player sul mercato nazionale serviamo l'Italia ma serviamo anche l'estero è un brand che sta crescendo La nostra necessità è quella sempre di essere a contatto con l'atleta che sia un atleta di basso profilo o che sia il grande atleta che per noi sono i nostri ambassador qualsiasi prodotto che andiamo a produrre per forza di cose è prima testato e poi messo sul mercato e quindi diciamo che il rapporto day by day con i nostri atleti ma anche con i nostri clienti che non sono atleti magari il genitore dell'atleta è fondamentale per poi sfornare un prodotto che possa piacere all'atleta ed è quindi per noi essere venduti Come dicevo vogliamo crescere se spuntano tanti piccoli coroncini in giro significa che stiamo crescendo e significa che quello che facciamo è nella strada giusta Continua a seguire gli episodi di Campus Masterclass su www.campusforlife.com e sui canali social di Campus Mi aspetto di migliorare molto col fatto che siamo al maneggio 24 ore su 24 sia da una gestione proprio di scuderia sia tecnicamente Grazie Grazie